io te lo gioco sulla nintendo eh e la devo giocare pure io mi hai messo in due si scusa non si gioca in due ma in tifinal fa no no ci devo già metti in due no non ci credo veramente l'hanno fatto non ci sta player dualizio come fanno esserci player 2 è proprio il gioco che si gioca in due mi presenti ha resettato ma questo è vero è una cosa amatoriale no è vero è un porting della versione di final fight per nintendo fai start 2 no ma non c'è è una versione limitata anche se due sprite due personaggi non riescono a considerare vai il cinema della città vai a fare cazza pulita oh ma deluca questo è deluca ragazzi deluca deluca final fight è bellissimo ha fatto bene che feccato è un po' di classico gioco è andava bene in due eh vabbè questo è più stile double dragon praticamente eh vabbè si è difficile magari fare un po' di classico gioco comunque è già 16-bit questa affatto aspettato come è avvenire il suo gioco ma poi è più tipo renegade final fight eh si tra l'altro questo è più divertente tipo più double dragon eh double dragon eh ma è molto bello secondo me anche perché penso sia anche più difficile molto bello eh eh ci siamo forti i ragazzi si ah da dove stai giocando tu? e già l'ho fatto il gioco ma vabbè tu Antonio non lo sai no 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 vabbè era lui il primo player io lo seguivo perché più che altro stavo cercando di spiegare delle cose che il colgio e il padre non mi trova e lui andava avanti e mi lasciava dietro è normale che poi lo perdevo e lo dovevo rincurrere non sta non eravamo sincronizzati perciò io lo mettevo prima di lui ma non mi riazza è vero tu andavi sopra e mi lasciavi giù mentre io stavo spiegando il fatto del giorno si si sei sempre stata una merda scusa guarda il D3 ci vuole legge mezz'asta e crede questo è il mosso uff 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 Allora, se fai il ride è sempre esatto e... che azioni? No, capite. Ah, la trappola! Vuole provare lei? Mi sono caduto dalla trappola? Vai, continuo, continuo. Allora, io? Perché ci stanchiamo? Eh, eh! Sono fresh. Mi sa anche il diametro che devi rispondere. Tipo, ti vuoi venire con me? Ah, eh! Ah, eh! Ah, eh! Questo è il danno! Il danno! No! Oh, ah! Ma ci! Vuoi tu? Mighty! Sì! Fammi provare questa pezza! I tassi, ok! Come sempre questo salta e questo ficchia! Ah, ficchia però! Eh, sì! Questo è forte! Ok! Non è forte! Non è forte! Questa fa così! Ah, è bello! Sì! Non ho provato qua! Può stare al vento! Preca che energia! Oh! Aspetta, il caccio avanti non lo fa! Sì! Questo! Questo è? Sì! Non fai il doppio... No, ma tu hai fatto il doppio caccio così! Doppio caccio avanti, come fa? Non l'ho mai fatto! Me lo sono sognato! Sì, sai! Tra le lettere di vittine di cambiare tusce! Vieni qua, danno, vieni! Anche lui lo fa! Eh, si è la mossa segreta! Eh, non me ne sono più forte! Tu sai saltare meglio! Dai fallo! 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 Dai, fallo! 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 Halla! È molto bello questo... Divertente! Ah, sì! Peccato che non si riesce a giocare in due. È comunque rallenta. Peccato! Ah vedi, è quello dicevo io, questo, il calcio volante è tuo, questo, ah quello che c'è, è in combinazione, wow le spalle, che eroe, ah c'è anche la brava signora, aveva altri no migliori all'epoca, mi piace questo mighty final fight, ah sulla panchina, non stava dando fastidio a nessuno, però ha incontrato il sindaco, De Luca, De Luca Power Up, mossa speciale, di De Luca, anche difende, difendo gli incapaci, eh, eh, basta, un po' basso vero, a chi senti il sindaco, dalla gente metà a stare sulla panchina, sta a casa, eh, tutta sta gente per strada, ma vi ho detto di stare a casa, go, go, ce ne sono ancora altre, eh, ho lanciafiamme, mazzo questo si difende pure, dice che c'è la mascherina, ma io poi io posso fare il bagno, ce ne sono pure la mascherina, eh, ce ne andiamo pure a fare il bagno, eh, ma si vede che è un gioco vecchie, non ancora ne capite ma prendi gli oggetti, gli oggetti non li ho visti ancora, vero? adesso solo il cibo, c'è il cibo, deve pur mangiare un cibo, un cibo, un cibo, c'è la mia volta che uccidi uno praticamente dovessi poi guadagnare tutte esperienze e poi fai a livellare... è il gioco di ruolo, poi per acquistore armi vai algar, vai parcheggio parcheggio tutte le macchine nel parcheggio, ragazzi, da sta casa, basta la spazza per metà sta buttata così, in cimili fatti senti che sono andato è un po' di energia però, potrebbe uscire, no? un po' di cibo, metrositi, questa è Napoli, la metropolitana questa è Mergellino, eh? questa è lungomare lungomare ah, ah, ah e ancora ah, vai lungomare di pozzoli ma un po' di cibo, non esce a me eh, ci siamo in da spazzare, vi cominciamo a me oh, enemy oh, capriola in dito questo è Pugge, eh, come si chiama? End of the Giant, o ancora no? ancora no? End of the Giant, sì sì, sì, è proprio lui, guarda come lo fa eh, vabbè sì non potevo schivare vai, continuiamo eh, certo vuoi abbandonarlo, scusa dobbiamo no, amicchiare dei bambini eh? no, questo è come brava quando vittano le donne ah 100 125 ecco la parete c'è anche il martello il martello a nuovi poteri ecco un po' di cibo e mi sembra visto anzi da fare il panino con salato da sera a sera ma sono forte qua sono forte le donne ma basta che fai sempre esatto e caccio e te la mangiare uuuu buon ci fai ah queste scusiamo siete troppo grasso no ma c'è anche una storia c'è un dialogo che si ama questo qua ti ricordi questo è difficile è normale ti fai battere da questo è un altro personaggio di street fighter e come si chiamava street fighter haffa mi sfugge ma ne si la faccio per prima di street fighter haffa street fighter haffa o street fighter haffa 2 eh non mi dico di no la serata super nintendo la facciamo e mettiamo street fighter haffa che sbagliato grazie spainata la smessione errore di rite è tornata è tornata adesso probabilmente o mobile ha colpito ancora ti ho detto di controllare ma questo è fastidio no andare qua ma ovviamente non è tutto stabile è troppo ah come vedete no come vediamo vediamo 4 pezze poi vediamo i lati la schermata del del twitch proprio ok ho preso la vita quante rite sono rimaste eh non tante questo è forte è un brado random come si ha radon non lo so non lo so come cacchio lo ti vuol mi sembra con eh non ce l'ho sempre con ti torna qua eh quel pozzo ma ce l'avevo tutta l'energia è un brado anche la musica guarda questa scelta senti ma l'ave e maionese, good. Quanta maionese? Stai mangiando Giuseppe. Quanta maionese è una combinazione di cento. Sì, anche l'orario diciamo adeguato è proprio quello necessita al tuo corpo di queste ribatezze. Ah, stavo funzionando. Questo sarebbe stato vaporizzato. Ma bonus stage hai vinto? Eh? Hai vinto? Sì, però ho perso una grande. Ah, a quale prezzo? Ah, ti fai più bonus stage. Ah, bonus stage. Allora, dovete stare al centro? Bisogna questo bonus stage. Ah, si deve anche saltare. Allora qua è uscito il bonus dei barili. Sì. Eh, non funzionava il tasto. Guardate, io credo che questo sia stato fatto molto dopo, se il fighter. Ok, di chi ha noi? Ma io non penso neanche che esista sto mighty fire in affatto. Vuol dire che mi sfuggiva un gioco del genere? Credo che sia una conversione fatta o amatoriale o dopo comunque. è 93. 93, quindi siamo già dopo. Il bonus dei barili, però, quando l'avevano messo? Cioè ci stanno i spader 2? Sì, quella. Stavano quella della macchina? Sì, ci stavano. Ah, quella dei barili che devi lunghere. Eh, ma non è che cattivano, erano di più mezzo. Comunque è sempre hanker. Questa l'avevano messo dopo, quindi ci dobbiamo affatto. E quella stava, ma si fa di ex. Stavano quella dei barili. Un po' po' double driver. Fatti tutto giù? Sì. Sì, può cadere anche giù. Non è Final Fight, è stile double driver. stile hankerene che gli trovano. Ah, poi da, poi da. Eh? Eh, nuovi poteri. Non lo so. Come hai fatto? Non lo so. Quindi fanno anche altre mosse. Eh, ma come? Con quale combinazione? Cioè, fanno più mosse del Final Fight originale, praticamente, questo personaggio. Basta, ma che scocciamo. Comunque è anche abbastanza rettico per un giochino del genere. Comunque, qua. C'è stato molto lento. C'è stato molto lento. In camera non si può giocare in 2. È una grande pecca. Questi due da me sono molto ecifiziosi. C'è stato molto lento. C'è stato molto lento che fai... lento di battere, io ti ho staccato qui il coltello. Rieneri di batti tutti i corsi troppo sbilanciato su questi. Rieneri di batti tutti i corsi. Troppo sbilanciato su questi. Mamma mia Su di corona Mamma mia